vangelo secondo marco capitolo 14 leggerò dal versetto 66 al versetto 72 vangelo secondo marco capitolo 14 dal versetto 66 al versetto 72 mentre pietro era giù nel cortile venne una delle serve del sommo sacerdote e veduto pietro che si scaldava lo guardò bene in viso e disse anche tu eri con gesù nazareno ma egli negò dicendo non so ne capisco quello che tu dici poi andò fuori nell'atrio il gallo cantò la serva vedutolo cominciò di nuovo a dire ai presenti costui è uno di quelli ma lui lo negò di nuovo e ancora poco dopo coloro che erano lì dicevano a pietro certamente tu sei uno di quelli anche perché sei galileo ma egli prese a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo di cui parlate e subito per la seconda volta il gallo cantò allora pietro si ricordò della parola che gesù gli aveva detta prima che il gallo abbia cantato due volte tu mi rinegherai tre volte e si abbandonò al pianto certo leggere questo brano ci porta ad essere forse stupiti spaventati confusi di fronte a quello che fece l'apostolo pietro pensando che questo caratterizzò uno degli apostoli un discepolo che era stato con gesù per tre anni che aveva seguito gesù aveva visto gesù operare in modo potente glorioso aveva beneficiato del suo insegnamento e qui abbiamo questo brano in cui ci ricorda in cui ci viene ricordato quello che pietro fece questo tripice rinegamento di pietro di questo parleremo questa mattina dopo la cena pasquale e dopo alcuni insegnamenti conclusivi di cui si parla nel vangelo di giovanni dal capitolo 14 fino al capitolo 17 gesù istruisce i discepoli poco prima della sua crocifissione intercede per loro accadono poi alcuni eventi di cui abbiamo già parlato questa sequenza di eventi proprio in quelle ultime ore prima della sua crocifissione abbiamo parlato di questa predizione della caduta degli apostoli a poche ore dalla sua crocifissione gesù predice la caduta degli apostoli dopo aver predetto che uno di loro lo avrebbe tradito ovvero giuda predice ora la caduta di tutti gli apostoli non solo predice il rinnegamento di pietro dopodiché dal versetto 32 fino al versetto 42 questo brano ci ricorda il modo in cui Gesù agì in questo giardino del gezzemani poche ore della sua crocifissione la sua agonia la sua profonda angoscia la sua umanità abbiamo considerato in che modo Gesù ha reagito in quella tentazione Gesù sta per essere separato dal padre l'eterno il figlio che si separa dal padre e alla luce di ciò Gesù è angosciato Gesù prega se fosse possibile che quell'ora passasse oltre da lui chiede che quell'ora possa passare oltre da lui diceva abbà padre ogni cosa ti è possibile tu sei l'onnipotente allontana da me questo calice ovvero la sua morte sostitutiva per salvare peccatori però non quello che io voglio ma quello che tu vuoi questo Gesù fece per tre volte Gesù prega rivolge la sua preghiera al padre e affronta la tentazione affronta questa sua sofferenza ciò che sta per fare morire a posto di peccatori pregando e abbiamo visto sottomettendosi al padre alla sua volontà ci dimentichiamo di questo ci dimentichiamo del modo in cui Gesù agì nel dare la sua vita per peccatori indegni immeritevoli Gesù ha dato se stesso e affrontato la tentazione infatti abbiamo visto l'esempio di Gesù e come agire la sottomissione al padre non la mia ma la tua volontà Gesù può capire la nostra tentazione e di conseguenza Gesù è un esempio per noi per affrontare le nostre tentazioni poi abbiamo visto quello che accade subito dopo il tradimento di Giuda uno degli apostoli che consegna Gesù ai membri del sinedro a questi soldati alle guardie per soldi per 30 sigli d'argento pensate quanto il cuore dell'uomo è corrotto ingiusto è pronto a consegnare un innocente per guadagnare soldi questo è quello che fece Giuda Gesù viene arrestato abbiamo visto Gesù non si oppone Gesù sa che quello che sta per accadere corrisponde al piano di Dio quello che sta per accadere corrisponde a quello che le scritture rivelavano tutto ciò era la testimonianza di ciò che i profeti dissero Gesù sottomesso versetto 49 così reagisce Gesù di fronte alle guardie soldati ogni giorno era in mezzo a voi insegnando nel tempio e voi non mi avete preso ma questo è avvenuto affinché le scritture fossero adempiute Gesù sa quello che le scritture rivelavano questo era il tempo per essere arrestato ed essere crocifisso e cosa accade come agiscono gli undici apostoli abbandonano Gesù tutti lasciatolo se ne fuggirono i suoi seguaci dopo anni vissuti con Gesù a stretto contatto abbandonano Gesù in quel momento arrestato questo d'altronde è quello che Gesù aveva predetto e si avvera esattamente ciò aveva detto voi tutti sarete scandalizzati perché è scritto io percorrerò il pastore e le pecore saranno disperse i discepoli abbandonano Gesù e poi abbiamo considerato la scorsa domenica dal versetto 53 a 65 questo processo Gesù viene processato davanti al sinedrio davanti al capo dei sacerdoti al sommo sacerdote in modo illegittimo abbiamo capito perché e viene ingiustamente processato e ingiustamente condannato abbiamo visto si presentarono falsi testimoni cercavano disperatamente di trovare un motivo per condannare Gesù ma non riuscirono le loro testimonianze non erano concordie a un certo punto caiafa interroga Gesù per fargli dire qualcosa da usare poi per poi condannarlo infatti gli chiese sei tu il Cristo il figlio del benedetto sei tu il messia il figlio di Dio e Gesù risponde affermando io sono e vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza venire sulle nuvole del cielo Gesù risponde sì io sono il messia il figlio di Dio colui che sarebbe asceso al padre e sarebbe ritornato per giudicare e a quel punto condannano Gesù ingiustamente per aver dichiarato la verità pensate lo condannano per aver dichiarato che lui è il messia che lui è il figlio di Dio è morto sulla croce per aver dichiarato di essere Dio incarnato di essere Dio incarnato e non solo vediamo la loro corruzione non solo processano Gesù in modo illecito non solo lo condannano ma abbiamo visto gli sputano in faccia gli coprono la faccia gli danno dei pugni lo deridono le guardie gli danno dei schiaffi viene umiliato il messia è umiliato perché tutto ciò l'eterno che si lascia umiliare per salvare peccatori indegni come noi per giungere alla croce e morire all'apposto di peccatori questa è la grazia di Dio altro che opere meritorie è assurdo di fronte a ciò l'eterno che si umilia per salvare peccatori ingiusti lui che dà la sua vita come prezzo di riscatto per salvare in queste ultime ore prima della sua crocifissione Gesù viene tradito viene arrestato viene processato ingiustamente viene condannato e come se non bastasse un altro brano qui che presenta il rinegamento di Pietro pensate che cosa accade in quelle ore il triplice rinegamento di Pietro Marco capitolo 14 da 66 al 72 cioè di cui parleremo questa mattina l'adempimento di quello che Gesù aveva predetto poche ore prima in Marco 14 versetto 30 Gesù gli disse in verità ti dico che tu oggi in questa stessa notte prima che il gallo abbia cantato due volte mi rinegherai tre volte e ora vedremo in questi versetti quello che accade l'adempimento di questa predizione non solo Gesù aveva predetto ciò anche durante la cena pasquale in Luca 22 Gesù disse questo durante la cena Luca 22 versetto 31 Simone Simone ecco Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno e tu quando sarai pentito fortifica i tuoi fratelli e Pietro risponde con fiducia in se stesso signore sono pronto ad andare con te in prigione e alla morte e Gesù replicò Pietro io ti dico che oggi gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi Pietro ha fiducia in se stesso Pietro è forte in se stesso se grappa la sua forza al suo coraggio e Gesù lo avverte dicendo che lo avrebbe rinegato tre volte Pietro replicò in Marco 14 anche se dovessi morire con te non ti rinnegarò ebbene in questi versetti invece vedremo che Pietro rinnegarà Gesù tre volte un brano particolare importante perché descrive con precisione come agisce Pietro la domanda talvolta è questa perché pronti per giudicarlo pronti per deriderlo che combini Pietro e vedremo che qui la scrittura parla di Pietro ma parla di noi Marco in questi versetti mette in luce alcune cose prima cosa mette in luce la codardia e la disonestà di Pietro mette in luce la codardia e la disonestà di Pietro dal versetto 66 al 72 la prima parte del 72 la codardia e la disonestà di Pietro e poi vedremo che mette anche in luce un'altra cosa il versetto 72 l'ultima parte il genuino pentimento di Pietro il genuino pentimento di Pietro iniziamo con la disonestà la codardia e la disonestà di Pietro la codardia e la disonestà di Pietro ciò di cui parla Marco in questi versetti è strettamente legato a ciò che ha detto al versetto 54 ricordate questa parentesi quando parlò di questo processo davanti al sinedrio Marco scrisse Pietro che lo aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote stava lì seduto con le guardie e si scaldava il fuoco dopo aver abbandonato Gesù a un certo punto sappiamo che seguì Gesù da lontano seguì Gesù a distanza di nascosto in Matteo 26 versetto 58 sappiamo perché voleva vedere come la vicenda sarebbe finita voleva sapere cosa sarebbe accaduto a Gesù e di conseguenza a distanza di nascosto segue Gesù entra nel cortile e stava lì seduto con le guardie ad altre persone a scaldarsi Pietro chiaramente sperava di rimanere nascosto voleva nascondere la sua identità e allo stesso tempo sapere che cosa sarebbe successo a Gesù ma questo è quello che accade però versetto 66 mentre Pietro era giù nel cortile dopo essere entrato venne una delle serve del sommo sacerdote si trova in questo cortile e a un certo punto venne una delle serve del sommo sacerdote questa è la stessa serva che aveva fatto entrare Pietro in Giovanni capitolo 18 brano parallelo questa mattina leggeremo i vari brani evangeli i brani paralleli Giovanni 18 versetto 15 intanto Simon Pietro e un altro discepolo seguivano Gesù e quel discepolo era noto al sommo sacerdote ed entrò con Gesù nel cortile del sommo sacerdote Pietro invece stava fuori alla porta allora quell'altro discepolo che era noto al sommo sacerdote uscì parlò con la portinaia e fece entrare Pietro e poi diceva serva portinaia dunque disse a Pietro non sei anche tu dei discepoli di quest'uomo qui capiamo che questa donna era la stessa donna la portinaia che venne e si avvicinò a Pietro mentre era lì a scaldarsi con le guardie davanti al fuoco e venne versetto 67 e avendo visto Pietro che si scaldava lo guardò questa donna vide Pietro che si scaldava e lo guardò qui usa due termini vide e poi lo guardò questo secondo termine significa questo sguardo intento lo guardò intentamente Luca 22 versetto 56 lo guardò con attenzione intentamente e ricorda di averlo visto con Gesù il Nazareno infatti dice anche tu anche tu eri con il Nazareno Gesù anche tu eri con il Nazareno Gesù viene descritto in questo modo il Nazareno così conosciuto Matteo 26 versetto 69 il Galileo Gesù il Galileo la serva disse diverse cose questo è quello che capiamo attraverso i vari Vangeli la serva del Somma Sacerdote si avvicina a Pietro dopo averlo visto lo guardò con più attenzione e riconobbe che era uno dei discepoli che era con Gesù è importante perché quando parlò questa donna parlò davanti agli altri le altre persone udirono in Luca 22 56 capiamo questo attraverso questo versetto Luca 22 56 una serva vedendo Pietro seduto presso il fuoco lo guardò fisso lo stesso termine lo guardò intentamente e disse anche costui era con Gesù sta parlando ad altri anche lui era con Gesù questa serva riconosce Gesù Pietro voleva rimanere nascosto segreto aveva seguito Gesù da lontano non si aspettava che qualcuno lo riconoscesse e come reagisce di fronte a questa serva come risponde l'apostolo a Pietro uno dei discepoli versetto 68 ma egli negò Pietro nega Pietro nega di essere stato con Gesù nega di essere uno dei suoi discepoli e Matteo 26 Matteo 26 versetto 70 ascoltate quello che Matteo riporta 26 70 ma egli lo negò davanti a tutti davanti a tutti dicendo non so che cosa dici davanti a tutti Pietro nega ciò davanti ai presenti non solo davanti a questa serva ma non solo nega ma parla dice qualcosa nega nega dicendo non so né capisco quello che tu dici non so né capisco quello che dici Pietro risponde risponde in questo modo con queste due frasi non so letteralmente non conosco afferma di non avere conoscenza riguardo a quello che disse la serva non conosco non solo non conosco ma dice non capisco non comprendo Pietro dichiara di non capire Luca 22 versetto 57 disse donna non lo conosco non solo risponde no ma dice non capisco non conosco lui Pietro agisce con codardia con paura e con disonestà risponde che non conosce Gesù risponde che non comprende quello che diceva la serva Pietro non si aspettava di essere riconosciuto forse questa serva lo aveva visto nel tempio durante quell'ultima settimana quando Gesù insegnava ogni giorno nel tempio non sappiamo Pietro non si aspettava ciò e di conseguenza dopo aver negato di conoscere Gesù di essere uno dei suoi discepoli dicendo non so ne capisco andò fuori nell'atrio Pietro si sposta Pietro imbarazzato impaurito andò fuori nell'atrio si sposa all'ingresso del cortile dove c'era meno luce non più davanti al fuoco si sposta per nascondersi e poi questa frase racchiusa in queste mezze parentesi quadrate e il gallo cantò queste mezze parentesi che indicano che questa frase non si trova nei manoscritti più antichi nel testo originale Pietro si sposta in questo luogo più buio e impaurito spaventato e imbarazzato le persone riconoscono che lui era uno dei discepoli di Gesù 69 Marco prosegue nel raccontare quello che è successo la serva è la stessa persona la serva forse seguì Pietro forse ritorna al suo posto come portinaia e Pietro è lì che vuole nascondersi ma quella serva è lì anche lei e vedutolo para i presenti cominciò di nuovo a dire ai presenti questo è di loro letteralmente questo è di loro è uno di loro questa donna richiama ma l'attenzione dei presenti più persone ascoltano ciò infatti sappiamo attraverso altri due vangeli che ci furono almeno altre due persone che si unirono a questa serva in Matteo 26 versetto 71 leggiamo un'altra un'altra serva lo vide e disse a coloro che erano là anche costui era con Gesù Nazareno un'altra serva e Luca 22 versetto 58 22 58 e poco dopo un altro lo vide e disse anche tu sei di quelli un altro un'altra persona più persone davanti ai presenti dichiarano che lui è uno dei discepoli di Gesù e come risponde l'apostolo Pietro come risponde ma egli negava di nuovo per la seconda volta Pietro nega ora prima aveva risposto a qualcosa di inaspettato prima era stupito ma qui è ben consapevole che alcuni lo avevano riconosciuto e rimane nel cortile premeditando di rispondere negando di conoscere Gesù ha premeditato ha pianificato ha agito con volontà che è rimasto nel tempio non è fuggito ma ha cercato un modo per continuare a rimanere nascosto in che modo negando di conoscere Gesù in Matteo 26 versetto 72 negò di nuovo giurando non conosco l'uomo giurando per enfatizzare che stava dicendo la verità non conosco l'uomo Giovanni 18 versetto 25 nega di essere uno dei discepoli di Gesù Pietro si dissocia completamente da Gesù e dagli altri discepoli Pietro rimane nel cortile va verso l'ingresso dove c'era meno luce e nega Gesù e nega di essere uno dei suoi discepoli manifestando questa grande disonestà manifestando questa sua codardia paura Pietro fa l'opposto di quello che aveva promesso a Gesù in Marco 14 dopo che Gesù aveva predetto il suo rinagamento egli diceva più fermamente versetto 31 anche se dovessi morire con te non ti rinegherò lo stesso dicevano pure tutti gli altri discepoli Pietro fa l'opposto di quello che aveva promesso dopo quello che Gesù gli aveva detto non si fida di quello che Gesù disse ma si fida di se stesso ripone la fiducia in se stesso e qui ci ricorda quello che facciamo noi non si fida della sua parola il credente che non si fida di ciò che Dio rivela nella scrittura e ripone la fiducia in se stesso e agisce con questa fiducia per poi credere versetto 70 e poco dopo di nuovo i presenti le persone lì presenti dicevano a Pietro sicuramente sei di loro anche perché sei Galileo poco dopo in Luca 22 versetto 59 leggiamo circa un'ora dopo circa un'ora dopo Pietro rimane ma rimane nel cortile per nascondersi e circa un'ora dopo dicevano più persone sicuramente sei di loro anche perché sei Galileo dicevano a Pietro sei sicuramente uno dei suoi discepoli erano certi di questo anche perché era Galileo a motivo del suo accento Matteo 26 versetto 73 se andiamo in Giovanni capitolo 18 c'è un altro dettaglio Giovanni 18 Giovanni capitolo 18 versetto 26 26 uno dei servi del Somma Sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse non ti ho forse visto nel giardino con lui qui c'è il parente di Malco colui a cui Pietro recise l'orecchio in Marco capitolo 14 versetto 47 questo servo anche lui era presente nel giardino e si ricordò di Pietro lo aveva visto lo aveva visto Pietro e si ricorda di lui come uno dei discepoli di Gesù questi presenti dicono certamente tu sei uno di quelli anche perché sei Galileo come risponde l'aposto Pietro ascoltate come risponde traduco letteralmente dal testo greco ma egli cominciò a maledire e a giurare non conosco quest'uomo di cui parlate cominciò a maledire e a giurare non conosco quest'uomo di cui parlate letteralmente cominciò a maledire qui tradotto imprecare maledire il termine originale termine greco troviamo questo termine per esempio in Atti 23 vorrei leggere alcuni versetti per mostrarvi che cosa sta dicendo Pietro Atti 23 Atti 23 versetto 12 questa congiura dei giudei contro Paolo che vogliono ucciderlo 23 12 quando fu giorno i giudei ordinarono una congiura e con imprecazioni contro se stessi fecero un voto di non mangiare né bere finché non avessero ucciso Paolo versetto 14 si presentarono ai capi dei sacerdoti agli anziani e dissero abbiamo fatto un voto scagliando l'anatema contro noi stessi scagliando l'anatema contro noi stessi di non mangiare nulla finché non abbiamo ucciso Paolo 21 ma tu non darretta loro perché più di 40 uomini di loro gli tendono un agguato e con imprecazioni contro se stessi hanno fatto un voto di non mangiare né bere finché non lo abbiano ucciso e ora sono già pronti aspettando il tuo consenso il termine è maledire si riferisce al termine anatema infatti lo stesso termine sostantivo lo troviamo in Galati in Galati capitolo 1 versetto 8 Galati capitolo 1 versetto 8 quando Paolo scrive ma anche se noi un angelo dal cielo vi annunziasse un vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato sia anatema è lo stesso termine qui è sostantivo in Marco c'è il verbo versetto 9 come abbiamo già detto lo ripeto di nuovo anche adesso se qualcuno vi annunzia un vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia anatema cosa sta facendo l'apostolo Pietro Pietro mette se stesso sotto la maledizione di Dio invoca il giudizio di Dio su se stesso per dimostrare che non conosceva Gesù in altre parole stava dicendo Dio mi maledica se non è vero quello che sto dicendo Dio mi giudichi se conosco quest'uomo questo è il modo in cui Pietro G pronunciò questa maledizione per mostrare che era veritiero non solo giurò giurò giuramento per confermare che stava dicendo la verità che non conosceva Gesù non solo Pietro nega ma con forza nega di conoscere Gesù pronunciando questa maledizione e giurando colui che dichiarò tu sei il Cristo Marco 8 29 ora dichiara non conosco quell'uomo e giura e pronuncia questo giudizio su se stesso Pietro mente consapevolmente rinnega Gesù premeditando ciò pronunciando questa maledizione e giurando ciò che più contava era nascondersi era proteggersi da un possibile arresto questo è quello che contava e quindi agisce giurando e pronunciando questa maledizione per amore di se stesso e che cosa accade il versetto 72 e immediatamente il gallo cantò una seconda volta immediatamente e Luca 22 versetto 60 mentre ancora parlava il gallo cantò qui c'è l'adempimento di quello che Gesù aveva predetto in Marco 14 30 in verità ti dico che tu oggi in questa stessa notte prima che gallo abbia cantato due volte mi rinegherai tre volte colui che aveva riposto la fiducia in se stesso che aveva dichiarato di essere pronto a morire rinnega Gesù tre volte rinnega di conosce Gesù tre volte questi versetti mettono in luce la sua disonestà la sua codardia la sua infedeltà ma Marco non termina qui prosegue e in questo versetto 72 ci parla del suo genuino ravvedimento pentimento il genuino pentimento di Pietro abbiamo visto la codardia la disonestà ma ora vogliamo considerare il genuino pentimento di Pietro perché dopo che il gallo cantò che cosa accade allora Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detta prima che il gallo abbia cantato due volte tu mi rinnegherai tre volte Pietro si ricorda di quello che Gesù aveva predetto Luca aggiunge un dettaglio Luca 22 versetto 61 aggiunge un dettaglio importante versetto 60 subito mentre parlava ancora il gallo cantò e il Signore ovvero Gesù voltato si guardò Pietro e Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detta dopo che cantò il gallo due volte Gesù si volta a guardare Pietro nella sua niscenza sa quello che è appena accaduto mentre è processato ingiustamente guarda il suo discepolo il Signore voltatosi guardò Pietro è il termine lo stesso che abbiamo visto prima guardò Pietro intentamente dopo questo triplice rinnegamento come reagì Pietro parco scrive e si abbandonò al pianto si abbandonò al pianto a piangere letteralmente passò del tempo a piangere la sua coscienza venne risvegliata riconobbe il suo grave peccato sentì il peso del peccato la sua disonestà la sua codardia la sua infedeltà pianse ora alla luce del resto della scrittura sappiamo che questo pianto era sintomo di un profondo rimorso e di un genuino pentimento perché anche Giuda mostrò rimorso ma si suicidò un rimorso mondano ma Pietro come sappiamo alla luce della scrittura ebbe questo profondo rimorso e manifestò un profondo e reale pentimento sappiamo infatti che Pietro conservò la fede perseverò nonostante quella grande caduta si rialzò sappiamo che fece ciò grazie a Gesù che pregò per lui Luca 22 ricordate che ho letto prima Pietro sappiamo attraverso la scrittura si rialzò dopo questa grande caduta infatti Marco 16 versetto 7 dopo la risurrezione di Cristo questo è quello che disse questo angelo alle donne voi cercate Gesù Nazareno che è stato crocifisso egli è risuscitato non è qui ecco il luogo dove l'avevano messo ma andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro quello stesso Pietro che aveva rinegato Gesù tre volte che egli vi precede in Galilea come Gesù disse tra l'altro in Marco 14 versetto 28 non solo sappiamo quello che poi accade dopo la sua risurrezione in Giovanni capitolo 20 e velocemente Giovanni capitolo 20 dal versetto 1 fino al versetto 10 sappiamo quello che accade Pietro e l'altro discepolo uscirono dunque si avviarono al sepocro versetto 3 andarono al sepocro versetto 6 giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepocro e vide le fasce per terra e su Dario che era stato sul capo di Gesù non per terra con le fasce ma piegato in un luogo a parte allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepocro e vide credete perché non avevano ancora capito la scrittura secondo la quale egli doveva risuscitare dai morti Pietro è lì che va al sepocro entra dentro in prima corinzi capitolo 15 versetto 5 sappiamo quello che accade dopo la risurrezione di Cristo dai morti in prima corinzi capitolo 15 versetto 5 quando Paolo scrive che apparve Gesù apparve a Cefa poi ai 12 apparve a Pietro Cefa sempre in Giovanni capitolo 20 versetto 19 in poi Gesù apparve ai discepoli si presentò in mezzo a loro Pietro insieme agli altri discepoli non solo capitolo 21 Gesù appare si presenta lì nella spiaggia capitolo 21 versetto 4 quando era già mattina Gesù si presentò sulla riva e i discepoli però non sapevano che era Gesù allora Gesù disse loro figliori avete del pesce e gli risposero no ed egli disse loro gettate la rete dal lato destro della barca e ne troverete e se dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro è il Signore Simon Pietro udito che era il Signore si cinse la veste perché era nuto e si gettò in mare gli altri discepoli vendono con la barca perché non erano molto distanti da terra circa 200 cubiti trascinando la rete con i pesci appena sceso da terra videro là della brace e del pesce messovi su e del pane Gesù disse loro portate qua dei pesci che avete preso ora Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò a terra la rete piena di 153 grossi pesci e benché ce ne fossero tanti la rete non si strappò Pietro lì presente si getta in acqua per raggiungere Gesù e poi dal versetto 15 sappiamo quello che accade colui che rinegò tre volte Gesù osservate come agisce Gesù nei suoi confronti quando ebbero fatto colazione Gesù disse a Simon Pietro Simone di Giovanni mi ami più di questi e gli rispose sì signore tu sai che ti voglio bene ora si affida alla conoscenza che Gesù ha di lui non più a se stesso tu sai e Gesù rispose passi i miei agnelli ecco il suo ruolo Gesù ristabilisce Pietro davanti agli altri discepoli di nuovo una seconda volta Simon di Giovanni mi ami mi ami e gli rispose sì signore tu sai che ti voglio bene Gesù gli disse pastura le mie pecore Gesù gli disse la terza volta Simone di Giovanni mi vuoi bene Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta mi vuoi bene e gli rispose signore tu sai ogni cosa tu conosci che ti voglio bene non si affida a se stesso ma sa che Gesù è cosciente del suo amore per lui Gesù gli disse pasci le mie pecore in verità in verità ti dico che quando eri più giovane ti chingevi da solo andavi dove volevi ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti ovvero sarà crocifisso disse questo per indicare con quale morte avrebbe glorificato Dio colui che rinegò Gesù sarebbe morto crocifisso per amore di Cristo si cade ma Pietro si rialzò usando questa fede in Cristo e poi anche Matteo capitolo 28 Matteo capitolo 28 Gesù in Galilea versetto 16 quando quanto agli undici discepoli essi andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro designato e vedutolo l'adorarono alcuni però dubitarono Gesù avvicinato si parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra andate dunque fatemi discepoli tutti i popoli battizzandoli nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate ed ecco io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente Pietro chiamato a fare discepoli a predicare il Vangelo e a istruire non solo dopo 50 giorni dalla crocifissione di Cristo come agisce Pietro atti 2 non possiamo leggere tutti questi versetti atti 2 è Pietro che predica e chiama a ravvedimento gli israeliti e proclama che Cristo crocifisso è risuscitato dai morti in atti 2 versetto 22 in poi questo è quello che fa non solo in atti capitolo 4 Pietro viene arrestato Pietro viene arrestato per amor di Cristo e come reagisce Pietro in quella circostanza versetto 17 ma affinché ciò non si diffonda maggiormente tra il popolo ordiniamo loro ai due discepoli Pietro e Giovanni con minacce di non parlare più a nessuno nel nome di costui e avendoli chiamati imposano loro di non parlare né insegnare affatto nel nome di Gesù ma Pietro e Giovanni risposano loro giudicate voi se è giusto davanti a Dio ubbidire a voi anziché a Dio quando noi non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite atti 5 ancora una volta gli apostoli arrestati e come affrontano quella persecuzione 29 ma Pietro e gli altri apostoli risposero bisogno obbedire a Dio anziché gli uomini con fermezza quello stesso Pietro si è rialzato proclamando Cristo dopo la risurrezione con fedeltà con fiducia con coraggio grazie da Cristo e pensate versetto 40 essi furono da lui convinti chiamati gli apostoli li batterono ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare essi dunque se ne andarono via dal sinedrio rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltreggiati per il nome di Gesù e ogni giorno nel tempio per le case non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo Pietro cadde rinnegando Gesù tre volte ma si rialzò manifestando un genuino pentimento sottomesso a Cristo e questa è la natura della fede servifica questa fede in Cristo che manifesta un reale e visibile e genuino ravvedimento come dimostrò l'apostolo Pietro questa è la fede servifica una fede perseverante Pietro cadde si ma si rialzò questo è il credente un brano certo e importante Marco 14 dal 66 al 72 il triplice rinnegamento di Pietro questo brano ci ricorda due realtà spirituali che caratterizzano i credenti è un brano importante per noi non è un brano scritto per portarci a giudicare l'apostolo Pietro sentirci più giusti di lui ah io non avrei fatto questo no è un brano che troviamo nel testo biblico per mostrarci due realtà spirituali che vorrei considerare con voi in questi ultimi minuti questa è la prima realtà la debolezza del credente la debolezza del credente la debolezza spirituale del credente tutti i credenti pur essendo salvati in Cristo peccano il peccato è ancora presente nella vita del credente c'è una continua lotta spirituale in Romani 7 Paolo parla di ciò Gesù aveva esortato Pietro e gli altri due discepoli a vegliare a pregare per non cadere in tentazione perché il discepolo è debole e deve pregare deve vegliare deve riporre la fiducia nel Signore perché in se stesso è debole debole sapete il credente oggi potrebbe rinegare Gesù in modi diversi forse non come Paolo come Pietro forse non come Pietro forse indirettamente o anche direttamente per esempio facendo compromessi dimenticando che è fondamentale seguire Cristo anziché la propria carne dimenticando di riconoscere che Cristo è il Signore della nostra vita rineghiamo chi è Cristo nella nostra vita e secondo terzo quarto quinto non è così importante è più importante la nostra carne i nostri desideri i nostri vizi le nostre abitudini è la stessa cosa non riconosciamo che Cristo è il nostro Signore non siamo pronti a confessare a riconoscere il bisogno di seguire Cristo costi qualche costi ma siamo pronti a fare compromessi e parleremo di questo anche mercoledì per aspetti pratici ed ecco perché è fondamentale riporre la fiducia nel Signore pregare vegliare dipendere da Cristo perché siamo deboli in noi stessi siamo deboli il peccato è ancora noi non siamo ancora glorificati se ramentiamo che siamo deboli questo deve spingerci a dipendere da Cristo realmente Pietro ci aiuta attraverso la sua prima lettera in Prima Pietro capitolo 5 ascoltate quello che Pietro scrive Prima Pietro 5 capitolo 5 versetto 5 così anche voi giovani siete sottomessi agli anziani e tutti tutti rivestitevi di umiltà gli uni verso gli altri perché Dio resiste ai superbi ma da grazia agli uomini o la superbia Dio resiste ai superbi a coloro che vivono in modo indipendente ma da grazia agli uomini e qui sta parlando a chi a chi sta parlando ai credenti quindi applicazione umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi annalzi al suo tempo ci aggrappiamo a lui ci umiliamo sottomettendoci a lui alla sua volontà al suo piano alla sua parola e Dio ci innalza al suo tempo lui che ci innalza e ci fortifica ma quando noi ci umiliamo a questo punto il credente dice ma non capisco fisicamente cosa devo fare concretamente Pietro ci spiega gettando su di lui ogni vostra preoccupazione cercando realmente di dipendere da Dio perché egli ha cura di voi umiliarsi significa voler dipendere da Dio gettando su di lui le nostre preoccupazioni sapendo che egli ha cura di noi e poi prosegue siate sovri vegliate il vostro avversario il diavolo va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare resisteteli stando fermi nella fede sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo ecco come agire nella nostra debolezza di fronte al diavolo che va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare fede in Cristo e rimetterci al Signore che ha cura di noi umiliarci sotto la sua potente mano questo scrive Pietro apostolo Pietro ecco come agisce il credente tutto ciò alla luce della certezza che il credente ha in Cristo versetto 10 ora il Dio di ogni grazia che vi ha chiamato la sua gloria eterna in Cristo dopo che avrete sofferto per breve tempo vi perfezionerà egli stesso vi renderà fermi vi fortificherà stabilmente Dio ci custodisce noi ci aggrappiamo a Lui con fede Dio ci preserva ci custodisce Pietro che ha perseverato ha fatto ciò grazie all'opera di Dio di Cristo Gesù che ha interceduto Giovanni 17 intercede per noi ha pregato per noi e prega per noi Romani capitolo 8 alla luce della nostra certezza in Cristo in prima Pietro 1 versetto 3 la stessa cosa benedetto se il Dio è padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una eredità incorruttibile senza macchia inalterabile essa è conservata in cielo per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi il credente si grappa a Cristo al Signore consapevole che è debole che deve dipendere da Dio e la luce di questa certezza che ha in Cristo Dio custodisce mediante la sua potenza colui che fede a Lui ecco la fede salvifica ma la fede è perseverante il credente consapevole della sua debolezza ripone la fiducia in Cristo c'è una seconda realtà importante sapete totalmente dimenticata dal mondo evangelico forse dai credenti e forse volutamente un po' scomoda molto scomoda questa è la seconda realtà il genuino pentimento di Pietro il credente pecca certamente in modo diverso rispetto al non credente ma a differenza del non credente il credente che è in Cristo manifesta un genuino pentimento non solo un pianto superficiale ma un pianto che è la manifestazione di qualcosa di interiore che si manifesta con la vita Pietro Pietro non ha solo pianto in un incontro ha mostrato il suo pentimento genuino che cos'è il pentimento nella Bibbia vorrei leggere alcuni versetti ancora per qualche minuto seconda Corinzi capitolo 7 Paolo ci mostra in cosa consiste il vero pentimento distinguendo il vero pentimento dal falso pentimento il pentimento secondo il mondo seconda Corinzi 7 diciamo dal versetto 8 anche se vi ho rattristati con la mia lettera non me ne rincresce e seppure ne ho provato rincrescimento perché vedo che quella lettera quantunque per breve tempo vi ha rattristati ora mi rallegro non perché siete stati rattristati ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvidimento al pentimento poiché siete stati rattristati secondo Dio in modo che non aveste a ricevere alcun danno ascoltate fratelli cari perché la tristezza secondo Dio produce un ravvidimento che porta alla salvezza del quale non c'è mai da pentirsi ma la tristezza del mondo produce la morte fermiamoci qui per un attimo qui distingue questa tristezza secondo Dio genuino ravvidimento con la tristezza secondo il mondo i non credenti che sono tristi perché hanno rimorso per quello che hanno fatto manifestano amarezza manifestano anche autocomiserazione questa è la tristezza secondo il mondo un semplice abbattimento l'orgoglio ferito il fastidio di aver sbagliato per l'ennesima volta il fastidio riguarda quello che gli altri possono pensare di lui o di lei questa tristezza fratelli cari è del mondo ma la tristezza secondo Dio il pentimento biblico il vero pentimento produce risultati visibili non è la teoria di un predicatore e la bibbia che lo dichiara versetto 11 infatti ecco quanta premura ha prodotto in voi questa vostra tristezza secondo Dio premura prontezza nel fare ciò che è giusto anzi quante scuse quanto sdegno indignazione nei confronti del peccato quanto timore reale timore di Dio quanto desiderio di fare ciò che è giusto quanto zelo per la santità quale punizione la consapevolezza delle conseguenze per il peccato in ogni maniera avete dimostrato di essere puri in questo affare purezza reale il pentimento si manifesta con la purezza con la santità il pentimento del credente si manifesta con dei frutti visibili spirituali ed è lo stesso pentimento di colui che giunge a salvezza voglio mostrarvi qual è il pentimento di colui che giunge a salvezza e deve essere lo stesso pentimento dei credenti in prima tessalonicesi capitolo 1 versetto 9 perché perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi ascoltate e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente è vero questa conversione dagli idoli abbandoni gli idoli e poi servi Dio non è un apparente abbandono abbandoni gli idoli abbandoni il peccato e visibilmente servi Dio vai a Dio onori Dio vivi per Lui questo pentimento è ciò che deve contraddistinguere colui che giunge a salvezza è colui che è salvato per la sua intera vita se questo contraddistingue colui che giunge a salvezza non dovrà anche caratterizzare il credente dopo la salvezza la volontà di abbandonare il peccato di cui siamo consapevoli questo è il ravvedimento osservate quello che disse Giovanni Giovanni il Battista ai farisei ai saducei Matteo 3 7 8 ma vedendo molti farisei saducei venire al suo battesimo disse loro razze di vipere chi vi ha insegnato a sfuggire lì la futura fate dunque dei frutti degni di ravvedimento perché gli descrive vipere perché visibilmente non c'era ravvedimento non erano pentiti era chiaro ah ma sta giudicando Giovanni Battista no osserva se ci sono frutti spirituali perché questo è il ravvedimento biblico il pentimento biblico corrisponde ad un reale cambiamento infatti il pentimento biblico corrisponde all'opera di Dio in seconda Timoteo 2.25 proprio velocemente in seconda Timoteo 2.5 questo è quello che dice Timoteo Paolo Timoteo deve istruire con mansuetudine gli oppositori nella speranza che Dio conceda loro di ravvedersi per riconoscere la verità in modo che rientrati in se stessi escano dal laccio del diavolo che lì aveva presi i prigionieri perché facessero la sua volontà nella speranza che Dio conceda doni il ravvedimento il reale ravvedimento biblico e opera di Dio e di conseguenza ci sarà un reale cambiamento perché non è una tristezza secondo il mondo non è semplicemente un rimorso no se l'opera di Dio ci sarà un cambiamento interiore ed esteriore visibile gli altri vedranno questo ravvedimento perché è un'opera spirituale questo è ciò che deve caratterizzare i credenti non so Pietro si rammentiamo il suo rinegamento ma non ricordiamo però il suo reale pentimento la fede e il pentimento sono due realtà strettamente legate ma oggi alcuni nel mondo evangelico dicono basta credere basta credere basta affermarlo senza che ci sia un cambiamento nella propria vita ebbene quella fede è in un falso vangelo che non esiste il credente manifesta il pentimento il credente desidera abbandonare il peccato desidera ciò per amor di Cristo vuole fare ciò sente questo peso e vuole cambiare oltretutto quando nella scrittura si parla di evangelizzare costantemente leggiamo ravvedetevi e credete al vangelo in marco 1 15 atti 2 38 atti 3 19 atti 17 30 atti 26 versetto 20 costantemente ravvedetevi e credete al vangelo fede salvifica include anche il ravvedimento ecco due realtà spirituali la debolezza del credente chiamato quindi a riporre la fiducia in Cristo e poi il genuino pentimento di Pietro questo è quello che deve caratterizzarci un reale pentimento fratelli come ultima cosa di fronte a questo evento non possiamo fare altro che ricordarci quanto è grande la grazia di Dio la grazia di Dio immeritata la grazia di Dio incondizionata il suo amore per Pietro che lo ha appena rilegato questa è la grazia ed in questa siamo saldi ma attenzione questa grazia immeritata non annulla la santificazione in Romani 6 si parla di ciò quando Paolo evidenza che dove il peccato è abbondato la grazia è sovrabbondata ma poi dice attenzione non significa che possiamo vivere nel peccato ma significa che con quello spirito di riconoscenza ci rialziamo per vivere fedelmente il credente si affida a Cristo alla sua grazia immeritata al suo amore incondizionato forte in lui non in se stesso e allo stesso tempo agisce per camminare fedelmente con un genuino ravvedimento e tutto questo è possibile proprio per l'opera del Signore Romani 6 che abbiamo studiato il credente morto in Cristo risolto con Cristo può ora vivere la sua vita fedelmente radicato in questa grazia di Dio in questa amore di Cristo incondizionato ma con il desiderio di riporre la fiducia in Cristo e di pentirsi che il credente che è in Cristo desidera abbandonare il suo peccato e desidera consacrarsi al Signore fratelli cari se il credente non abbandona il suo peccato non sta seguendo Cristo sta seguendo i due padroni il peccato è Cristo e non funziona così Matteo 6 24 il credente segue Cristo e fa ciò come un amore si sottomette a Cristo e rinuncia a se stesso abbandonando il suo peccato tutto questo è possibile proprio perché c'è l'opera di Dio nella vita del credente di Dio di Dio di Dio